Eccoci con il match winner, doppietta per te Riccardo, un commento veloce sulla gara. Ciao, guarda, partita dura, partita dura, loro una buona squadra, soprattutto difensivamente, insomma ci hanno messo in difficoltà. Però alla fine ne siamo usciti vincitori. Ultima domanda, senti, pensi che un po' più merito loro o qualche demerito vostro oggi? Magari non vi ho visto totalmente concentrati all'inizio gara. No, più di qualche merito loro sicuramente c'è, però ti ripeto, alla fine siamo usciti fuori al secondo tempo e l'abbiamo chiusa. Perfetto, allora grazie e in bocca al lupo per il contino. Grazie Crepi.